Boccata d'ossigeno per il mondo dell'editoria e dell'informazione locale. La maggioranza consigliare di centrodestra ha caldeggiato l'aggiornamento di una normativa a sestegno dell'informazione locale che ha avuto il via libera della giunta regionale e l'approvazione nel consiglio dello scorso martedì 27 febbraio. Si aggiorna dunque una normativa che nelle Marche risale al 1997 e che non trovava sostanziale applicazione dal 2014. È un aiuto al favore dell'editoria, un settore comunque sia in difficoltà, è un momento difficile e necessita assolutamente di sostegno. Quindi la regione Marche ha ben capito queste esigenze e ha fatto una legge concertata con incontri avvenuti anche con gli emittenti locali, con il mondo della comunicazione locale per favorire anche la promozione della regione Marche e non per favorire la giunta regionale della regione Marche come qualcuno ha cercato di sostenere assolutamente delle considerazioni fuori luogo. Questa è una legge che vale assolutamente per tutti, per un mondo assolutamente che necessita di aiuto in un momento comunque difficile. Legge sulle norme per il sostegno dell'informazione locale che punta a portare contributi ad un settore, in particolar modo quello televisivo, gravato dagli oneri di adeguamento ai nuovi standard tecnologici imposti a livello nazionale. Sono stati stanziati 400 mila euro per il 2023, per il 2024, per il 2025. I criteri di ripartizione e modalità di erogazione verranno stabiliti con un'apposita delibera da parte della giunta regionale che stabilirà quali sono i criteri, sempre una massima concertazione e trasparenza. Ci saranno poi dei bandi dove tutti possono partecipare. Questo è il modo più trasparente e più equilibrato per poter regolamentare un settore comunque sia difficile. Grazie a tutti.